Che differenza c'è tra questo miele e questo miele? Che questo sia più vecchio? E se vi dicessi che invece si tratta dello stesso miele? Dopo il nostro ultimo podcast di cui vi mettiamo il link sotto in descrizione abbiamo deciso di realizzare anche una versione video in modo da farvi vedere alcune cose molto interessanti. Partiamo dicendo che la cristallizzazione è un processo naturale. Quando un miele cristallizza diventa solido, come in questo caso, ed è più o meno lavorabile e non è più trasparente come lo era una volta, come in questo caso. Abbiamo già visto in un nostro precedente video che il miele è composto grossomodo dal 17-18% di acqua e da più dell'80% di zuccheri, tra cui glucosio e fruttosio. Si tratta di una concentrazione altissima per una così poca quantità di acqua. È per questo che con il tempo i cristalli di zucchero, principalmente il glucosio, tendono ad aggregarsi e a formare un reticolo più o meno compatto o più o meno pastoso. Si dice che in questo caso il miele è una soluzione sovrassatura di zuccheri. Vale a dire che contiene più zuccheri di quanti ne potrebbe contenere stabilmente a questa temperatura. Per comprendere meglio il meccanismo vi rimandiamo all'articolo che ha scritto Dario Bressanini, ve lo mettiamo qua sotto nella descrizione, che spiega lo stesso processo però per la realizzazione dei cristalli di zucchero con acqua e saccarosio. L'inizio della cristallizzazione viene accelerato da fenomeni meccanici, a partire da quando l'apicoltore estrae il miele dal favo. Fra i fenomeni che incidono sulla cristallizzazione c'è anche l'invasettamento. In questo miele ad esempio possiamo vedere piuttosto chiaramente le volute di riempimento. La cristallizzazione segue il percorso che ha fatto il miele quando è venuto a contatto con le pareti del barattolino di miele. Fra le varietà di mieli che rimangono liquidi molto più a lungo si trovano quelli che sono molto ricchi di fruttosio, come ad esempio sono il miele di acacia o il miele di castagno. Il miele che troviamo sempre liquido sugli scaffali rimane liquido perché è stato sottoposto ad un processo di pastorizzazione. Mentre nel latte ha senso praticare questo processo per minimizzare il più possibile i rischi sanitari dovuti al consumo di questo alimento, nel miele questo processo non ha senso. Non serve tutelare la salute del consumatore perché il miele è un prodotto già sicuro. La pastorizzazione in questo caso ha lo scopo di sciogliere i cristalli dello zucchero in modo di mantenere il miele liquido il più a lungo possibile. Questo viene fatto perché secondo le analisi di mercato al consumatore piace di più un miele liquido che alla vista dà l'idea di un prodotto più pulito e di maggiore qualità. In realtà la cristallizzazione non modifica affatto la composizione del nostro prodotto. La consistenza del miele cristallizzato è suddivisa in miele compatto e miele pastoso. Vediamo di che cosa si tratta. Questo è quello che possiamo chiamare miele compatto. È piuttosto duro da lavorare ma se lo raschiamo un po' liberiamo l'acqua presente fra un cristallo e l'altro e possiamo facilmente prelevare e dosare il miele senza bisogno di riscaldarlo. Questo invece è un miele pastoso. Come vedete lo possiamo lavorare molto facilmente perché le maglie dei cristalli in questo caso sono un po' più larghe. Se proprio non sopportiamo al palato i cristalli l'unica opzione è quella di riscaldare blandamente il miele. Parliamo anche di una consistenza extra che viene ricreata grazie all'uso di macchinari specifici. Mi riferisco al miele cremoso. Questo miele è liquido o cristallizzato? Diciamo che è una via di mezzo. Come abbiamo detto il miele va considerato liquido quando è anche limpido e questo miele non è affatto limpido. Anzi, questo è un miele cremoso. Vale a dire che è stato fatto cristallizzare con cristalli talmente fini da essere impalpabili. Un miele come questo non indurirà e non diventerà più compatto in quanto la cristallizzazione è già completa. Il processo che sta dietro alla creazione di un miele come questo è un po' complesso da spiegare. Quindi se volete saperne di più lasciateci un commento e magari faremo un video specifico al riguardo. Un aspetto interessante della cristallizzazione è che generalmente più un miele cristallizza in fretta e più i suoi cristalli saranno fini. È il caso ad esempio dei mieli di girasole che cristallizzano in maniera molto rapida e si presentano naturalmente cristallizzati sugli scaffali. Se ne troviamo di liquido al supermercato possiamo star certi che sono stati riscaldati. Se acquistiamo del miele fresco dall'apicoltore solitamente si tratta di miele liquido. Se vogliamo mantenerlo liquido il più a lungo possibile possiamo anche metterlo nel congelatore. La bassa temperatura rallenta moltissimo il processo di cristallizzazione ma state tranquilli per via del suo alto contenuto di zuccheri il vostro miele non congelerà affatto. Le basse temperature non alterano in alcun modo le proprietà organolettiche del nostro miele mentre invece accade con le temperature molto alte. Se invece il nostro miele ha già cristallizzato ma vogliamo renderlo di nuovo liquido possiamo chiuderlo bene e metterlo a bagnomaria. L'importante è non superare i 45-50 gradi di temperatura. Ci vorrà un po' di tempo ma in questo modo non andiamo a rovinare il nostro prodotto. In alternativa se invece abbiamo fretta possiamo togliere il tappo e metterlo nel microonde per circa 20-40 secondi a seconda della consistenza che vogliamo ottenere. Come potenza possiamo impostare 250 W. La temperatura a cui cristallizza il miele condiziona la velocità di cristallizzazione e quindi lo stesso identico miele invasettato lo stesso giorno potrà avere una cristallizzazione differente come vedete in questo caso. Questo miele è stato conservato al fresco mentre quest'altro è stato lasciato appositamente ad una temperatura molto più calda. Parliamo adesso dei difetti della cristallizzazione. Un difetto che possiamo riscontrare nel miele è la separazione in fasi. Può anche essere una caratteristica che emerge quando conserviamo il nostro miele per tempi molto lunghi in ambienti molto caldi e quindi si separa in fasi. Questo è un miele che come vedete presenta una separazione in fasi. La parte liquida è nettamente separata da quella solida. Abbiamo trovato mieli separati in fasi anche al supermercato. Erano ben coperti dall'etichetta ma osservando bene il barattolo abbiamo visto che molti mieli presentavano questo problema. Il problema di questo miele è che l'acqua libera è concentrata tutta da una parte e quindi un miele come questo fermenterà sicuramente. Quando un miele fermenta presenta delle bolle che sono i gas sviluppati dalla fermentazione. All'odore un miele fermentato presenta il classico odore di fermentazione di aceto e se lo assaggiavo è piuttosto acido. La fermentazione accade quando il contenuto dell'acqua è troppo alto e i lieviti riescono quindi a svilupparsi. Solitamente gli apicoltori controllano che la quantità di acqua contenuta nel loro miele sia corretta prima di metterlo nel barattolo quindi questo difetto è decisamente raro. Un altro difetto è la cristallizzazione parziale che solitamente la si riscontra nei mieli rifusi. Per mieli rifusi si intendono quei mieli che vengono riscaldati per essere resi liquidi. Se durante la fusione non tutti i cristalli vengono completamente sciolti la cristallizzazione riparte ma avviene soltanto in maniera parziale e quindi si formano questa sorta di iceberg di cristalli di zucchero. Mieli che si presentano in questo modo nel migliore dei casi sono stati conservati a temperature non adeguate troppo alte per un periodo troppo lungo. Le macchie di retrazione non sono nient'altro che un essiccamento dei cristalli di glucosio che si sono aggregati. Si tratta di un difetto prettamente estetico che si forma tipicamente sui mieli che non hanno subito il trattamento termico e che sono stati conservati al fresco. Ecco un barattolo di miele che presenta le cosiddette marezzature o macchie di retrazione. I mieli conservati stabilmente al fresco possono a volte presentarsi così. Si tratta solamente di un difetto estetico se così vogliamo chiamarlo. Le macchie non sono altro che i cristalli di glucosio essiccati poiché sono venuti a contatto con dell'aria presente sulla spalla del vasetto. Tutto qui. Mi sembra che anche stavolta abbiamo parlato abbastanza. Quindi da Vitamina B è tutto e al prossimo video! E il vostro miele non congele là, non congele là. Continuate a ronzare con noi! E l' nécessite a parlare con l'aria presente! Qui siウ'oita i principi? Qui si sa che sovrebbe disol cardina? Ecco là! Ulmotare le cose!